Molti di voi forse non lo sanno, ma io ho fatto questa scoperta sensazionale, Robert Johnson era sardo, Diggi Larza, era uno dei quattro muri, i quattro muri erano Robert Johnson, Muddy Waters, Freddie King e Albert Collins. Lo sapevi Pablo? No, no, non lo sapeva, quindi l'avrei fatto bene. Non c'era neanche Francesco Pino, nei quattro muri. E quando sono abbronzato qua da Sintino? Ok, ragazzi, ma cosa c'è a Pablo Leoni? Il Pablo Leoni c'è questo strumento molto particolare che si utilizzava proprio qua sull'Alda per lavare, quando Pablo Leoni si lavava le mutande, le case, andava qua sull'Alda e usava questo strumento washboard, ma la sera, quando gli entrava nella quale casa brembate, lo utilizzava come strumento a percussione. Quindi, non più la grattugia, un applauso per Pablo e la grattugia, non più per una batteria, ma l'antenato della lavattrice da Pablo Leoni House. Grazie a tutti! Grazie. 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 Grazie.